Che ci posso fare se tutto intorno è nulla? Ci vorrebbe un salto, un esempio di cultura. Ma che fare il nuoto nell'ipocrisia? Mi conviene fare un bel corso di regia. Che ci posso fare se mi sento un po' turista e guardo sempre il mondo dal mio punto di vista? Ma tanto che arrivi a sorpresa una dolce poesia. E andare, andare, non vuol dire niente. Che tu va a far?